Prima che i partiti dell'opposizione attacchino il governo sullo squilibrio fra pensionati in Italia e lavoratori attivi, per cui la stampa, soprattutto quella meridionale, organizzerà focus sull'onta della vergogna costruita d'arte, è bene mettere in luce ad esso come il fallimento reale dell'Italia meridionale, anche centro-meridionale, si sia già avuto negli ultimi dieci anni, anni che, come tutti sanno, sono stati ad esclusiva egemonia del PD, lo dice la CGA di Mestre, e non ci sono dubbi che sia così, ma la sinistra opera in maniera talmente subdola, utilizzando la propria stampa asservita, da far apparire tutto questo esclusivamente a carico del governo Meloni. Lasceranno passare un po' di mesi e vedremo che prima o poi, anche per bilanciare gli scandali sinistri fino ad ora osservati, Qatargate, somma, oro, eccetera, inizieranno a cavalcare questa volta l'onda contro il governo per lo squilibrio fra il numero eccessivo di pensionati e quello dei lavoratori statali autonomi, per cui il PIL diminuisce e il governo non riesce a trovare i soldi per recuperare un'Italia sull'orlo del fallimento. Sono ancora in pochi a sapere, perché in pochi se ne sono occupati con chiare e lucide analisi, che in Italia meridionale risultano essere poco più di 7 milioni pensionati e poco più di 6 milioni lavoratori, per cui lo squilibrio aumenta scandalosamente se viene aggiunto il numero di coloro che percepiscono un reddito di cittadinanza. In Sicilia i pensionati sono 340 mila in più rispetto a chi lavora, in Puglia 276 mila, mentre in Calabria sono poco più di 234 mila. Non è che nel resto dell'Italia vada meglio, perché i pensionati sono in media oltre 200 mila in più rispetto ai lavoratori, ovvero 22 milioni e 700 mila contro 22 milioni e 500 mila. Tuttavia, sono le regioni settentrionali a tirare avanti la cosiddetta baracca e ben fanno quando denunciano questo scandalo italiano. Soprattutto è la stampa asservita che non riesce a divincolarsi dalla morsa della pseudo-egemonia culturale, falsamente rivendicata dalla sinistra. È la Lombardia ad avere 658 mila lavoratori in più rispetto ai pensionati. Sono il Veneto con 291 mila e l'Emilia Romagna con oltre 190 mila, ad avere più lavoratori che pensionati. Lo si vede quanto si percorrono le strade di queste regioni dove c'è un'impresa, un'industria di seguito all'altra. O si osservano da lontano ciminiere che fumano o lungo le autostrade dove file interminabili di autotreni viaggiano cariche al massimo fino a Rimini. Nell'Italia meridionale, principalmente in Calabria, appare tutto come raso al suolo e nessuno che abbia qualcosa da dire o da scrivere, mentre si esalta il paesaggio come più bello del mondo. Neppure è vero tutto ciò, ma per la stampa non c'è di meglio che parlare di argomenti innocui, anche se a volte non tanto innocui, come il turismo e la criminalità. Mettiamoci anche alla cultura.